Va bene, comunque noi abbiamo chiesto direttamente a Conte, abbiamo fatto un'intervista a Conte a margine di tutto ciò. Da 1 a 10 quanto è soddisfatto dell'incontro con Draghi? Uno. Lei è consapevole del fatto che ha quasi aperto una crisi di governo in questi giorni? Sì. Qualche giorno fa ha dichiarato, con Italia le spese militari finanzieremo la nascita di un nuovo ballo di gruppo, la danza per contrastare i missili. Sarà una cosa tipo l'inno di Mameli, ma per la danza, un ballo nazionale. Questo era molto importante, ne eravamo sprovvisti. I soldi serviranno a finanziare dei workshop incentrati sull'allenamento dei diti indici. Perché proprio i diti indici? Questo sì, e questo è dovuto al fatto che tra l'altro è l'indice che rallenta più tardi rispetto agli altri. Perché crede che la danza per contrastare i missili sia così innovativa? Mai stato fatto in passato. Danza per contrastare i missili. DPCM. Guardate, queste sono valutazioni che fa lei, è una traduzione molto arbitraria. Le manca Palazzo Chigi, vero? Applauso ad Alessio Marcelli, autore di questa interazione.